il pianeta muore il nostro pianeta sta morendo beh e tutti sanno quello che sta succedendo lo sanno tutti non c'è solo il riscaldamento globale l'orribile riscaldamento globale ma c'è anche la plastica ovunque c'è la plastica ovunque l'inquinamento c'è anche l'inquinamento ambientale c'è il riscaldamento globale e l'inquinamento ambientale c'è plastica dappertutto sia nei fondali del mare che sulle cime c'è plastica persino sull'Himalaya mi pare che ci sia un'enorme isola di plastica nell'oceano pacifico è un pianeta di plastica il nostro pianeta sta morendo e per capire bene la situazione e ci si deve ci si deve tutti dobbiamo ascoltare il mio antichissimo video intitolato intitolato l'eresia capitalistica l'eresia capitalistica perché al patriarcato al patriarcato noi viviamo in patriarcato al patriarcato io ho dedicato voi quattro video sulle eresie interne al patriarcato queste eresie interne al patriarcato sono l'eresia nazista l'eresia sovietica l'eresia illuministica e last but not least l'eresia capitalistica allora relativamente a questo mio video intitolato il pianeta che muore voi dovete andare ad ascoltare un mio antichissimo video di almeno dici anni fa intitolato l'eresia capitalistica è un video lungo cioè di lunga durata pure circa un'oretta un'oretta e io questo video ve lo metto con il link nel riassunto di questo video quindi voi con un semplice click andate sul mio antico video intitolato l'eresia capitalistica è un pianeta che muore e l'umanità non ce la fa a salvarlo il pianeta siamo 7 8 9 miliardi di abitanti e quasi tutti siamo dei potentissimi inquinatori inquinatori non ce la facciamo a tornare indietro a livello dei consumi nessuno può tornare indietro vogliamo tutti andare avanti il pianeta non regge più la situazione cambiamento climatico inquinamento ambientale il pianeta sta diventando una funia a cielo aperto ma per capirla meglio la situazione c'è il mio antico video intitolato l'eresia capitalistica ed io sono questo qua vedete io sono questo qua e poiché io sono sia su daily motion che su youtube e su youtube ho oltre 10 milioni di oltre 10 milioni di visualizzazioni io serafino massoni che ho 81 anni posso dire posso dire e di essere uno dei più noti opinionisti del web bene cari amici vi lascio al mio antichissimo video intitolato l'eresia capitalistica ok ok ok